Buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo video, ci beccate di domenica mattina a pranzo ormai ieri è stata una giornata lunga e eravamo molto stanchi, abbiamo dormito un po' di più stamattina un po' di più per modo di dire, diciamo siamo stati a letto perché c'è Auri che insomma non ci dà tutta questa possibilità di dormire però siamo stati un po' più a letto, un po' più tranquilli perché l'opzione di oggi era andare in piscina perché fa caldissimo e poi Claudio ci ha fatto pulire casa io ho fatto pulire casa, niente, ogni tanto mi viene da pulire qualcosa e lei mi vede e comincia a pulire pure lei siamo un po' così abbiamo pulito un po' casa, o così e adesso siamo a pranzo, stiamo mangiando due spinacine, ragazzi, una cosa al volo perché l'obiettivo di oggi, ripeto, era andare in piscina poi abbiamo rimandato ad oggi pomeriggio anche se io poi dovrò andare via perché c'è un turno di lavoro però adesso pranziamo, ci sistemiamo intorno alle 1.30 alle 2 andiamo alle piscine vicino casa non ci siamo mandati, sono più o meno in zona rustica da Cesare Francesco esatto, più o meno e quindi niente, ci vediamo dopo e vi saluto anche Elia adesso volevo farvi vedere la bruscatura di pane di Claudio sì, come si dice? Crespi? come si dice? comunque niente di che spinacine, ragazzi, ebrioli questo è il nostro pranzo vedete che belle le rose che ha regalato a me a Claudio? ieri stavamo a cena a Torvalianica si è avvicinato al tipo delle rose e io ho detto vabbè, me ne stava dando una e ha detto no, se me ne dai una me ne devi dare due perché una sono per Ele e una per Auri e lui me ne ha dato tre si è preso 5 euro pure magari me ne ha dato le regalate però a me ci sta buon pranzo meraviglia, ma tu non avevi sonno a lei l'acqua la stanca ma oggi non è quel giorno, vero? ma ancora non mi hai fatto sentire alla gente come dici mamma come si dice mamma? niente facci sentire come dici mamma niente quindi i suoi denti sono noi dobbiamo fare merenda vero Mona? lui voglio un caffè e un gelato pure io mamma Aurora sei stata brava? no no si che sei brava sei un tesoro in tutto soggio sono delle mie nuove sabattine al mare cioè si al mare in piscina profusa momento gelato vale qual è il gelato che ti ispira di più? mi ispiravo tutto sinceramente eh certo io mi prendo questo tu? tu arma io mi sa che mi prendo questo bravo poi invece lì abbiamo il nano dall'ascia com'era? il gnomo armato di ascia l'ultimo esemplare di un gnomo armato di ascia hai detto che si deve stare vestiti e te che stai un po' così sto vestita se mi viene un gnomo armato di ascia io so è una specie di primitivo che va in giro così ah ok tipo Vilma esatto dov'è la nostra merenda? dov'è la nostra merenda? dov'è la nostra merenda? arriva un cucchiaino di qualcosa dov'è la nostra merenda? certo bella manzola davanti agli altri sei pronta per entrare piccola Fanny? guardate che bello Claudio con la cuffia bellissima noi vediamo le piscine con la cuffia cioè è più igienico eh però è proprio una scocciatura vedete anche Aurora odia la cuffia dai buttatevi è calda? è calda Aurora? e questa è la mia versione con la cuffia che bella chi è? ma il uomo è il uomo? chi è? fai gli vedere come noi buonasera ragazzi avevamo un attimo debellato le zanzare invece questa sera è pieno ne ho già uccisi 18.000 ma è pieno infatti sto controllando Aurora che non gli vadano addosso c'è Kira che piange perché praticamente quando mangia Aurora sono costretta a metterla fuori perché praticamente lei che cosa fa? si arrampica con due zampe sopra al insomma sopra non mi viene di Aurora e comincio a mangiarle la pasta dal piatto e ovviamente poi io devo buttarla e rifarla quindi quando mangio Aurora praticamente la metto un attimo fuori e poi rientra solo che appunto non è una cosa buona quella che fa ho provato anche a sgridarla a farle capire che non si fa ma non c'è niente da fare appena mi distraggo un attimo lei prende e lo fa e quindi sono costretta a metterla fuori fatemi sapere se anche i vostri cani facendo così i whisky non lo fa non lo fa neanche se Aurora mangiasse per terra perché magari dite voi non ci arriva al seggiolone di Aurora effettivamente non ci arriva però whisky non tende a chiedere cibo come Kira io credo sia proprio una cosa genetica del carattere del cane non lo so comunque sia sono totalmente diversi in molti atteggiamenti e quindi niente Kira purtroppo ha questo difetto col cibo è proprio il classico cane che mangia fino a vomitare fino a scoppiare cosa che whisky non fa adesso io ogni tanto le lancio tipo un po' di pane perché comunque mi dispiace sentirla piangere onestamente però lei ha già mangiato perché i cani mangiano sempre prima dei pasti proprio per non avere questo problemino però quando mangiamo lo stesso lo fa indipendentemente se mangia o non mangia se non mangia peggio ma se mangia lo fa comunque comunque siamo tornati dalla piscina Claudio è al lavoro io onestamente devo fare la spesa non ho nulla nel frigo e quindi ho fatto un'ordinità just it Aurora adesso sono le 9 fino a poco fa non voleva mangiare per cui sinceramente siccome aveva sonno e si lamentava avevo paura che andasse a dormire senza cibo e le ho fatto il latte perché le ho fatto la pastina e non me l'ha mangiata per cui le ho fatto 200 ml di latte mentre il latte appunto l'ha bevuto tutto tutte 200 ml adesso stava provando a rimangiare ha mangiato un pochino ma no non è cosa è abbastanza stanca per cui credo che la metto a dormire e aspetto che mi arriva la pizza così ve la faccio vedere ho anche dei pacchettini e tante cose da dirvi vi faccio vedere solo un acquisto che ho fatto ieri perché da zone marine mi ero scordata le ciabatte e ho comprato queste fake crocs credo si chiamino comunque è un modello di ciabatta che a me non è mai mai piaciuto ieri l'ho trovata in offerta 4 euro e 90 da risparmio casa le altre costavano tutte 10 euro siccome io sono piena di ciabatte ma me le ero scordate non mi andava di spenderci 10 euro ho detto vabbè proviamo queste a 5 ora sono comodissime e sono fake quindi non posso immaginare quelle originali perché sicuramente qui la plastica sarà di bassa qualità mentre magari le crocs sono di alta comunque adesso vado d'aura e poi magari vi faccio vedere la pizza è arrivato l'ordine questo è del papà un hamburger è voluto perché poverino non ha cenato quindi quando tornerà ci sarà un hamburger ad aspettarlo mi interessa ho ordinato da pizzeria da gusto e ho preso patate fritte e una bella pizza da da loro fanno anche l'impasto cereali e napoletano ah la pizza è diavola con salsiccia ispira tantissimo buona cena a domani buongiorno come state mi vedete un pochino con i capelli da esaurita perché praticamente li ho lasciati asciugare comunque niente stiamo andando a portare Auri al nido non si vede molto comunque poi dopo Claudio praticamente dovrà andare al lavoro e io anche la sentite dietro che vuoi dare il buongiorno ciao il buongiorno comunque ieri praticamente ho vloggato pochissimo anche al rientro perché vabbè sapete con una bimba è un po' difficile si sta soli e nulla mi sono anche scordata di dirvi una cosa che mi ha alquanto scioccata ho praticamente distrutto la macchina ieri quando stavo tornando dalla piscina perché c'era Aurora che piangeva disperata e io ero proprio totalmente presa da lei perché io odio quando lei piange in generale odio i bambini che piangono e ovviamente guidando io non potevo darle quello che lei voleva quindi magari le davo ogni tanto la mano quando potevo comunque sia praticamente da ferma in retromarcia ancora prima di partire mi sono incollata un paletto e vi metto la foto della mia macchina come attualmente e vi giuro raga ieri ero incazzatissima con me stessa perché praticamente io mi ripeto sempre di stare concentrata alla guida e anche se lei piange disperata ignorarla però certe volte è veramente impossibile perché comincia a urlare cioè prima parte piano ma alcune volte parte già a bomba e quindi niente ha distrutto la macchina e Claudio avrà il compito brutto di rimetterla a posto ma è distrutta ha fatto un puntegraffietto eh vabbè ho preso un paletto in pratica vabbè c'ha il bianchi il parafago posteriore rigato insomma e quindi sono abbastanza nera perché comunque sono soldi che vanno via più che altro adesso stiamo aspettando mia sorella che sale che dobbiamo portare anche Edoardo e quindi vi prego ditemi che non sono l'unica che quando sta alla guida con una bimba che piange si stressa tantissimo poi niente a pranzo verrà mia sorella con Valerio da me e dobbiamo registrare un video sul Dyson che mia sorella si è impegnata a volerlo fare e quindi sistemerò anche i capelli poi pomeriggio andiamo anzi vado da sola praticamente dovrò andare a vedere dove fare il compleanno Aurora abbiamo cambiato sei volte idea sì prima volevamo farlo in piscina solamente di sera però abbiamo pensato che alla fine con i bambini è troppo freddo per farli entrare in acqua e molti adulti sono comunque di età grande quindi non credo si lanceranno alle 7 di sera in piscina per cui abbiamo detto vale la pena pagare 500 euro l'affitto di un piscina con un bagnino per poi magari fare il bagno in sei persone oppure semplicemente per vedere la gente che magari sta a bordo piscina a mangiare che è carino però insomma 500 euro per fare questa cosa a sto punto uno prenota un aperitivo direttamente in un locale che è alla piscina quindi niente praticamente siccome ci saranno i bambini penso faremo una festicciola serale quindi dalle 6 dalle 7 in poi in un parco giochi che oggi vado a vedere per farmi fare il preventivo anche perché oggi siamo a il 18 e è veramente tardi perché la festa è il 6 quindi vedremo un attimo cosa fare perché almeno oggi riesco a fare gli inviti sono arrivati la banda Bassotti e quindi ci vediamo dopo Aurora sei pronta per il nido? chi deve andare? quello è il bar chi deve andare al nido? pronta? chi va al nido papà? ciao ciao chi va al nido? Aurora allora questa è la nostra colazione leggera e Valerio non ha preso niente amore Valerio non ha preso niente per colazione ma Valerio ha fatto colazione a casa ragazzi Valerio stai male oggi? no ma c'è pan di stelle a casa sei sicuro? c'ho le pan di stelle a casa no ho mangiato le pan di stelle a casa ma sei sicuro che stai piaciendo tutti bene? ti senti attuati ti senti sicuro? sì neanche un po' d'arietta niente ho fatto la cansa la verità è che in cassa Valerio mi ha detto ma li fanno i frozen yogurt alle 9 del mattino no mi so tranquillizzato e hai detto no non c'erà sono tranquillo sta bene allora niente sta bene allora è ora di pranzo alla fine né io sono andata a casa loro né loro sono andati a casa mia ma siamo in pizzeria brava vedi che fa le rime siamo da Alice Pizza io ho preso pizza con salseggia e patate tipo il terzo giorno una certa devo chiudere la bocca poi il salmone e verdure spattellate il salmone con penso radicchio insalata questo mi piace tanto anche a Valerio c'è anche il pomodoro lui sta a mangiare pancetta e provola e questa si è presa pomodoro e stracciatella c'è anche una ripiana tonno e radicchio vediamo com'è la vuoi una foglia tesoro dai metti un po' di verde su sta pizza tiè e fa finta che mangi le verdure sei allergico bravo Aurora che bello questo giochino di Forza 4 vero Dodo che bravi che sono questi ma lei che sta vincendo a drama no stiamo in parità dentro la mano e Aurora sto smontando Forza 4 come c'è come si fa guardate come sta in piedi che tipa che tipa questa bimba chi è Aurora una bimba bravo e io che sono io chi sono io e Auri siamo all'isola felice che è il posto dove forse facciamo la sua festa del primo anno fa la faccia che piange comunque niente lei vuole stare in braccio alla zia perché io so i capelli della wrap perché lei ha i capelli wrap e invece te guarda che ti sei fatta un test eh lo so ma l'ho fatta la cosa sta a schiumare se morete caldo infatti credo che opteremo per una soluzione serale per non far morire gli invitati poi ha detto che si può portare l'alcol quindi faremo anche gli spritzi quella è come stare a mia sorella a fine serata devi essere contenta no no esatto senza denti ma felice vabbè facciamo un giro nel parco no io vado a casa ciao vabbè ciao dai loro sono fantastici solo che c'è la musica quindi non vorrei che mi si cosa il copyright questi sono in retroscena di una youtuber fermatela vi prego fermatela è impossibile comunque la festa tu andrai sul salta salta che io mi devo portare la videocamera mo ci ammazza pronta ma no mamma non è pronta wow prendi tato vabbè se caschi c'è tutta la mia stima allora ragazzi Claudia è tornato a casa ha fatto la spesa ovviamente la prima cosa che vedo è la sua unica fonte di vita ed è praticamente le capsule del caffè poi come se non bastasse ha comprato anche la miscela per la macchinetta 100% arabica torrefatto macinato che usa per fare le macchinette quando va al lavoro poi ha comprato la salsiccia di tacchino senza pelle con suino e pollo questa è speciale grigliata poi sempre grigliata possiamo dire ha comprato le zucchine per Aurora ha comprato le salviettine della Lupilù e poi ha comprato il latte Zimil qua c'è qualcosa che non dovevo vedere che sono i sneakers ed infine i funghi sotto olio che è da un po' che non li mangiamo ma effettivamente noi c'eravamo in fissa solo che dovevo andare a comprare anche un'altra cosa e ora lo vado a intervistare per capire dov'è ma i pannolini che era il motivo per il quale si è uscito ho sbagliato dove stanno qua sopra ah ok li aveva presi ma non li aveva portati di là ok no lo perdoniamo allora scusi Claudio un po' sciocco basita perché siamo rimasti con zero ci stanno solo i tre della borsa del cambio ma ovviamente quelli devono rimanere là cioè ovviamente in estremis li siamo però comunque erano proprio finiti oggi tra l'altro mi è arrivato anche il mega pacco delle cose coordinato per la festa di Auri in più alcune cose per casa da Shein però vi farò vedere tutto devo decidere se farvelo vedere tutto domani o in un video a parte ora vediamo allora ragazzi ecco la cena tutta bruciata perché praticamente per la video mia madre la suserezza oddio fa paura Aurora mi si è bruciato tutto però ho assaggiato è molto buono quindi buona cena noi volevamo concludere il vlog di ieri voi ci vedete così ma noi siamo appena svegliati soprattutto la bambina Alessa qua è vero Aurora buon sogno io in realtà sono svegliata alle 5 perché Claudia è andata a lavoro poi mi sono riaddormentata verso le 6 ho dormito un'altra paura poi mi sono alzata invece la piccola dormito fino ad attimo e ora dobbiamo andare al nido io al lavoro e ieri dopo cena non abbiamo fatto niente perché abbiamo parlato con la mamma di Claudia un video chiamata un'ora però proprio stanchi siamo crollati tipo alle 9 e mezza ma proprio una cosa oscena e niente poi parlando abbiamo parlato un po' della giornata visto che non siamo stati insieme perché Claudio chiacchierava un sacco la sera a letto e niente abbiamo parlato anche di cosa fare per le vacanze di andare in Puglia forse andiamo se riusciamo a un concerto è vero e poi ci ritaglieremo forse non lo so 2-3 giorni se riusciamo senza Auri che la lasciamo alla nonna se non riusciamo con Auri sarebbe la prima vacanza senza Aurora infatti io non è che ho molta tranquillità e voglia cioè sono un po' preoccupata sia perché penso che mi mancherà e sia perché comunque come lei è molto mammona soprattutto di sera ho paura che magari faccia impazzire gli altri e quindi non lo so faremo delle prove visto che andiamo in Puglia per tanto tempo e vediamo come si comporta senza senza di me Auri mi stavo finendo di pulire gli occhi perché ieri il mascara mi sono struccata ma come vedete non è andato via totalmente e quindi me lo stavo un po' levando il mascara sto usando uno che veramente fa fatica a levarsi in un certo senso è bello e in un altro no perché la mattina sembra un panda vogliamo salutarle vogliamo salutarle di ciao a domani a domani ciao ciao ciao